Stiamo analizzando insieme alla regione Lombardia con grande attenzione l'evoluzione dei nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca e quindi stiamo vedendo in base a dati di incidenza e a dei nuovi casi accertati o di nuove positività accertate, non necessariamente casi sintomatici e in base agli R0, quello che noi chiamiamo sostanzialmente questi valori che rendono ragione della diffusione o della trasmissibilità se volete dell'infezione, stiamo valutando l'opportunità di fare questo o di prendere in considerazione una misura come questa sulla base però di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di sostenibilità della misura. No, non ho detto che si fa, ho detto che stiamo valutando.